Buongiorno Pier Giorgio, mi hanno detto che tu hai pane per i miei denti teca, hai una app da mostrarmi? Buongiorno, certamente sì, abbiamo recentemente lanciato, quindi alcuni anni si fa, la nuova soluzione del gruppo Ayer che si chiama On, è un'applicazione multiprodotto, multibrand e multiservizio, multisoluzione proprio perché si aggancia sia a tutti i prodotti del nostro gruppo, oltre a dei servizi esterni e dei partner esterni. L'idea è quella di avere una sola app per controllare poi tutti gli elettrodomestici della casa, ma anche poi dialogare con terze parti, per esempio gli smart speaker, altri elementi dell'IoT presenti in casa? Certamente sì, stiamo agganciando progressivamente tutta una gamma di prodotti nuovi e famiglie di prodotto nuovi, oltre a queste stiamo lavorando con partner esterni per avere un allargamento della soluzione, perché il nostro concetto di casa smart abbraccia chiaramente a 360 gradi tutte le componenti che sono all'interno dell'appartamento, di cui gli smart speaker sono una parte essenziale, una componente essenziale, quindi siamo compatibili al 100% con Amazon Alexa e con Google Home. Però non si parla solo poi di utilizzo degli elettrodomestici, ma anche manutazione e risoluzione dei problemi, ovvero servizi. Certo, abbiamo un pacchetto piuttosto importante di servizi collegati ai servizi di predizione di manutenzione del prodotto, oltre che in caso di eventuale guasto, dove il pacchetto ON fornisce delle soluzioni che aiutano il consumatore in caso di problema a risolvere dei piccoli problemi in maniera autonoma, piuttosto che una chiamata al service tramite un semplice pulsante direttamente dall'applicazione per poter dialogare con il nostro centro di assistenza tecnica, piuttosto che una serie di soluzioni, di domande e risposte che aiutano a capire un pochino meglio, come gestire per esempio la manutenzione del proprio prodotto. Se il filtro è sporco, se il calcare si è addensato nelle resistenze, il prodotto performa peggio e quindi noi siamo in condizioni di fornire preventivamente l'informazione al consumatore. Meglio prevenire che curare, quindi. Certamente. Mi è parso di capire che però è una app per tutti e comunque risolve i problemi, possiamo dire ON risolve i problemi? ON risolve i problemi e aiuta nelle routine quotidiane ai nostri consumatori. Perfetto, ti ringrazio, buona giornata. Grazie mille a te, ciao.